Dentro di te batte un cuore forte, passionale, travolgente, un brivido di moda irrefrenabile, ovvero Fuego. Per te, uomo sempre a caccia di novità, Fuego offre il meglio della moda. Gaudì, Doha, Frankler, Ledis, Reservano, Mesh, Primo Emporio, Retro. Fuego accende la passione per la moda. Abbigliamento lui e lei a prezzi scontati anche sulle nuove collezioni Primavera-Estate 2014. Fuego. Via nazionale uscita autostradale Montessano-Scano. Telefono 0975 86 60 17